Grazie a tutti. Di che cosa fosse successo in realtà e lei ci ha detto che in realtà erano già diversi giorni che questa cosa succedeva anche nei vari piani dello stabile. Nel frattempo dopo che noi abbiamo verificato questo la signora ha richiamato dicendo che un idraulico con l'aiuto di un idraulico era riuscito a tirar fuori questo serpente che aveva visto e in realtà che era un pitone reale. Ci troviamo all'interno della clinica veterinaria Isola Verde, siamo qui con la dottoressa Tiziana Rossi, la titolare della clinica e questo è il pitone reale che è stato ritrovato e a lei è stato affidato dall'EMPA. Dottoressa, in che condizioni si trova adesso l'animale? Per essere stato dove è stato è in buone condizioni per il momento. Ha solo una lieve stomatite, è leggermente sottopeso, un po' magrino però non ha lesioni cutanee. Quindi è reattivo e direi per essere stato in un bagno in ammollo per un po' di tempo sta bene. Quindi adesso con l'estate inizia a aumentare questa piaga dell'abbandono degli animali, dei rettili soprattutto. I cani, dei gatti, in questi casi alcune volte non è proprio abbandono, magari un pochettino di poca cautela da parte di chi li detiene, che non li tiene in condizioni ottimali. Magari possono anche fuggire dalla teca e quindi andare smarriti diciamo. Esatto, parlavamo anche con il collega dell'EMPA, ente protezione animali, che appunto ci diceva la difficoltà anche di gestire una volta presi, magari anche per capriccio o per moda, la difficoltà di gestire questi animali. Questi animali vengono presi che sono piccoli e estremamente graziosi, poi uno li prende e diventano grandi, questo raggiunge le dimensioni di un metro e mezzo. Altri animali diventano molto più grandi e quindi chi li prende si trova nelle condizioni di non avere spazio, di non sapere come gestirli perché non c'è un'informazione prima di acquistarli. Vengono acquistati perché sono carini, perché è un po' di moda. Questi animali non vengono, non sono animali di importazione, quindi di cattura, sono animali che vengono allevati. Quindi sono animali che adesso, dieci anni fa forse erano di cattura, adesso, dieci, quindici anni fa erano di cattura, adesso sono di allevamento comunque. Sono permissive le condizioni, nel senso che vengono venduti a qualsiasi persona e le persone, nelle persone, nei venditori si fanno carico di capire bene che animale stanno acquistando. Il problema è fondamentalmente questo, hanno bisogno di caratteristiche, di ambientazione, di alimentazione, di temperatura, di luce un po' diverse da un appartamento. Andrebbero, come si fa adesso per i cani e i gatti, andrebbero microcippati, così almeno si sa esattamente di chi sono, da dove vengono e chi li detiene. Abbandonare gli animali significa mettere in pericolo la loro vita e soprattutto è un reato. Quindi consiglio sempre a chi ha già provveduto all'acquisto di documentarsi meglio sulla detenzione, perché comunque questi animali possano vivere, nonostante rinchiusi in una teca, dove sicuramente non avranno mai più la loro libertà, da cui non potranno mai più uscire, di informarsi, di documentarsi bene e piuttosto che abbandonarli di chiamarci al nostro centralino, allo 02 9706 4220 per parlare e cercare di capire come risolvere al meglio la situazione.